Nasce una fattiva collaborazione tra il Comune di Pescara e l'Associazione Romena di Volontariato Abruzzo che si concretizza con uno sportello comunale al servizio dei cittadini romeni. La comunità romena Pescara è molto numerosa e nel tempo si è integrata nel tessuto sociale e professionale del capoluogo tanto da dar vita all'Associazione Romena di Volontariato. Il rapporto di collaborazione attivato tra l'amministrazione comunale e la stessa associazione presieduta da Mariana Bolan è stata illustrata nei suoi contenuti a Palazzo di Città. Questa iniziativa nasce da voler aiutare tutti coloro che sono ormai parte della nostra società italiana, è una società democratica che veramente ci ha fatti sentire a casa. Ma per sentirci veramente parte di essa abbiamo avuto grosse difficoltà, come ben sa adesso facciamo parte dell'Unione Europea, ma all'epoca, io parlo di 22 anni fa, quando io mi si piede in Italia eravamo immigrati. Da allora ad oggi, grazie alla professionalità che ovviamente ho acquisito, essendo un avvocato romeno poi, ovviamente proseguendo anche in Italia un riconoscimento, mi ha permesso di aiutare e di aiutarli ad oggi sentirsi veramente a casa. Fiorili va anche nella direzione dell'integrazione questa iniziativa? No, è proprio così, è una vera e propria azione di integrazione, perché noi spesso parliamo in questi giorni di integrazione sociale, di integrazione con gli stranieri, ma poi l'integrazione si concretizza in azioni, gesti e soprattutto misure che diano realmente la possibilità a chi arriva magari ed è spaisato, non conosce le leggi, le modalità, gli usi, i protocolli di un'amministrazione che sono già complessi a volte per chi vive in Italia. Allora offriamo uno sportello che sia un modo, un'interfaccia diretta per semplificare tutte quelle questioni che invece diventerebbero degli ostacoli insormontabili e che favoriscono davvero l'integrazione per sentirsi cittadini a pieno titolo. Oltre questo sportello noi anche in precedenza abbiamo aperto anche altri sportelli come quelli di Venezuelani, oggi i rumeni, ma questo è perché vogliamo dare un input a tutta la città di Pescara ai cittadini che tutti devono avere le stesse uguaglianze e tutti devono avere gli stessi diritti. Quindi noi ci siamo, il Comune di Pescara c'è, siamo a disposizione per dare sempre aiuto a tutti.